ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo ancora in garage perché non abbiamo finito la manutenzione di questa moto purtroppo avendo i suoi anni i suoi chilometri 72 mila ovviamente ci sono ancora delle cose da sistemare inevitabilmente oggi andiamo a sistemare il fatto che i dischi anteriori sono completamente usurati il limite minimo di spessore dei dischi è di 4,5 mm e in questo spessore andrebbero cambiati all'istante io li ho misurati ed è addirittura inferiore di questa cifra quindi sono proprio più che usurati più che alla frutta e devo cambiarli oggi cambierò quelli anteriori ma ho misurato anche il posteriore e anche il posteriore è da cambiare vi faccio subito vedere che dischi ho comprato l'avrete già visto dalla copertina sono i brembo serie oro classici molto molto belli da vedere nel mio caso è un 310 mm quindi neanche tanto piccolo anzi e in abbinata ci ho preso queste pastiglie sempre brembo queste sono le pastiglie sr sono pastiglie stradali racing che ogni tanto in pista ci si può andare e hanno delle performance ottime sia da fredde che da calde quindi resistono anche a temperature abbastanza elevate non sono paragonabili a quelle in carbonio ovviamente però dovrebbero fare il loro lavoro poi per l'utilizzo che ne faccio io va più che bene ma dato che a giugno andrò in pista fare un corso di cui porterò il video almeno sfrutto l'intero impianto frenante nuovo per bene e dovevo l'ora di testarlo ovviamente all'inizio andrà fatto un pochino di rodaggio di questo ne parleremo un pochino nel dettaglio dopo e prima di iniziare con la procedura di montaggio ricordo che se volete supportarmi e supportare la creazione di video mi raccomando iscrivetevi al canale è fondamentale ci mettete un secondo schiacciate sul tasto iscriviti qui sotto e darebbe veramente una grande mano a questo piccolo canale a crescere detto ciò mettiamoci al lavoro la prima cosa che faccio anche per portarmi avanti è spruzzare un pochino di svitol sulle vite che tengono fermo il disco perché sicuramente negli anni è probabile che si siano un bel po bloccate ossidate per cui questo mi facilita poi la distrazione questo ovviamente lo sto facendo solo ed esclusivamente perché poi devo cambiare tutto quindi non mi interessa se ci va a finire un pochino di lubrificante sui freni comunque uso della carta ok adesso con quella chiave adatta vado a provare a svitare non è che gli svito tutti adesso me li smoglio un attimo dato che ho la ruota montata e mi è un pochino più comodo ok diventano sempre un po duri perché c'è del freno a filetti ok ora vado a svitare i tamponi della forcella ok lasciamo da parte che ragazzi oggi è il giorno seguente per quello mi vedete con una maglia diversa adesso andrò appunto a smontare la ruota posteriore ci servirà nel mio caso una bussola esagonale in questo caso da 14 mi raccomando di misurare preventivamente che bussola vi serve perché sennò poi non riuscire a fare più nulla prima però dobbiamo andare a svitare questo qui che è il seraggio di sicurezza che evita di far svitare il perno ruota quindi ok perfetto andiamo a sfilare ed eccolo qua ragazzi mi raccomando prima di fare questa cosa smontate le pinze dei freni se non riuscite a estrarre la ruota come un imbecile non ho svitato il parafango quindi questo fatto prima bene ecco qui la ruota smontata adesso andiamo a rimuovere i dischi che avevo già allentato sono belli duri eh questo è il freno a filetti che fa effetto ci vediamo dopo quando li ho smontati tutti che sudata allora uno l'abbiamo tolto ora tocca all'altro allora qui in questo caso c'è anche questo rotore qua che serve per il sensore abs quindi questo è per l'abs per cui attenzione deve essere rimesso nello stesso modo così saranno da buttare invece questo che vedete è la guarnizione questo dovete comunque riutilizzarla da rimettere sempre qua anche qui segnatevi il verso ora vedete che c'è tutto il freno a filetti vecchio all'interno dei buchi cercate di ripurirlo deve essere completamente pulito e date una pulita anche alla alla ruota e dare anche un velo di grasso ai perni dei cuscinetti e cuscinetti così almeno siete tranquilli e ragazzi ci sto passando un'altra vite all'interno dei fori proprietà sto avvitando e svitando per pulire meglio il filetto interno ovviamente un po di frena a filetti sporcizia c'è finita quindi così facendo un pochino di sporcizia la butto fuori infatti all'inizio entra fatica poi svitando invece si svita tranquillamente con le mani infatti c'è un sacco di polvere di freno a filetti sprucizia che almeno così la estraete mi raccomando pulite la sede quello che riuscite a pulire lo pulite ora direi che è il momento di montarlo di montare i dischi nuovi faccio vedere giusto come ci stanno poi abbasso la ruota molto belli ora ci entriamo mi raccomando le scritte verso l'esterno è inutile dirlo ma per sicurezza ve lo dico dotatevi di freno a filetti che useremo per metterlo sulle viti metterò proprio una goccino un velo piccolino che poi tanto si va a espandere da solo in automatico ragazzi le viti devono meglio dovrebbero essere nuove quindi la cosa migliore da fare è prendere le viti nuove per fare il lavoro perfetto fatto bene io sto utilizzando le vecchie perché non sono riuscito a trovare le viti nuove in tempo e quindi momentaneamente sto usando queste comunque sono messe bene lo controllate lo ripulite ok adesso andiamo a chiudere andiamo ad avvitare momentaneamente con questa chiave fate sempre a x che vedete sempre a croce quindi una vite per quella apposta e così via ora andiamo a prendere la chiave dinamometrica quindi la coppia di questi bulloni di serraggio di 27 newton metro che vado a impostare sulla dinamometrica e andrò a serrare sempre a x una facciata è fatta giriamo faccio lo stesso identico procedimento anche da questa parte e poi ci vediamo dopo tra poco inizio a montarla sulla moto bene ragazzi montato anche altro cerchio adesso vado a rimettere queste boccole in apposita sede ingrasserò un pochino i cuscinetti con l'apposito grasso ad altre prestazioni per cuscinetti in modo da evitare anche infiltrazioni dalla guarnizione e quant'altro già che ci sono anche sgrassato per bene il perno ruota e ci vado a mettere sempre un po di grasso in questo caso io non lo metto sul filetto lo metto solo sullo stelo sul filetto invece andrò a mettere il grasso al rame che è un po più indicato per i filetti senza esagerare basta un velo tanto rimane anche il grasso al rame lo vado a mettere un pochino sul filetto anche qui poco senza esagerare che tanto poi si si spalma da solo da solo una volta che avvitate vado ora a rimontare la ruota e controllate sempre che il senso di rotazione sia quello corretto comunque qui c'è l'abs viene per forza così tenetevi il perno a portata di mano ok entrato il perno entrato perché gli do una stretta giusto adesso anche qui prendo la dinamometrica in questo caso la coppia di serraggio è di 108 newton metri con il posteriore tra l'altro quindi facile anche da ricordare perfetto rimetto di vita parafango poi ci sarà da cambiare le pastiglie mettere pastiglie nuove che vi ho fatto vedere all'inizio e io farei anche un lavaggio pinze così almeno siete tranquilli che fate già tutto e anche lo spurgofreni se non l'avete fatto di recente quindi se è passato un anno due dall'ultimo spurgofreni meglio rifarlo sul mio canale c'è sia la procedura del lavaggio delle pinze e di conseguenza anche lo smontaggio e rimontaggio delle pastiglie ve lo linko qua sotto così ve lo andate a vedere e c'è anche il video dello spurgofreni anche quello ve lo linko qua sotto quando ho montato la pinza radiale quindi senza stavola a rivedere vi andate a rivedere il video e direi che per oggi è tutto ovviamente poi farò un video sul sul test dei freni tengo a precisare che all'inizio i freni non freneranno perché sono nuovi quindi bisogna fare un rodaggio bisogna frenare molto dolocemente i primi chilometri primi 50 chilometri e fare delle pinzate modulari in modo da far accoppiare e consumare i dischi in maniera omogenea con le pastiglie nuove mi raccomando se il video ti è piaciuto ti è stato utile iscriviti al canale per supportare la creazione di altri video come questo e noi ci vediamo un prossimo video ciao a tutti